Mercoledì, vediamo come sta andando questa settimana, ma prima riflessione molto italiana. Ma quanto era diversa la nostra vita quando dovevamo andare in ufficio tutti i giorni? Adesso non so quanti di voi hanno passato questa fase della vostra carriera, perché mi dispiace ricordarvelo, ma il Covid ormai è iniziato più di quattro anni fa, quindi molti che magari avevano appena finito l'università hanno fatto esperienze di aziende in cui si doveva andare tutti i giorni in ufficio. O magari sono io che sovrastimo la quantità di aziende che permettono un po' di flessibilità da questo punto di vista. Magari avete iniziato a lavorare l'anno scorso e la vostra azienda richiede presenza obbligatoria sempre. Però ecco, io ogni tanto vado nell'ufficio della mia azienda qui a Lisbona perché è divertente, perché vedo le persone di persona che insomma fa sempre bene, però allo stesso tempo mi rendo conto che ieri sono arrivato lì alle 8 e mezza, 8 e 45, me ne sono andato alle 7 e 45, tra una cosa e l'altra veramente diventa complicato portare avanti qualsiasi altra cosa. E tra l'altro io arrivo abbastanza facilmente in questo ufficio, quindi non voglio immaginare chi deve guidare per ore, per giorni. È un commento molto da privilegiato, me ne rendo conto, però visto che ho questo privilegio di poter lavorare un po' da dove voglio, quando mi tolgo anche da solo questo privilegio, mi rendo conto che veramente è una grande cosa. Quindi niente, sono curioso di sapere un po' le vostre opinioni su questo, è un tema che abbiamo discusso anche più volte sul Tablerone Podcast, penso che però sia sempre un po' attuale. Detto questo, comunque lunedì sono riuscito a suonare un po' di chitarra, sto facendo qualche test, qualche esercizio, nulla di che. Ho fatto qualche altro test di scrittura, quindi adesso ne faremo un altro insieme, vediamo a che punto sono arrivato. Sono un po' forse fermo da questo punto di vista, cioè non sento di aver migliorato molto la mia velocità, a volte mentre lavoro sento proprio la necessità di cambiare in una modalità di scrittura più normale, per essere più veloce, cerco di contenermi, ma non è sempre banale, quindi vediamo, spero di essere migliorato un pochettino, se entro la fine di questa settimana dovessi riuscire ad arrivare, forse ai 60, 65, sarei contento, vediamo, magari sono molto lontano, sperando di essere molto lontano in positivo. Ok, oh, 62, va bene, ho notato che ho fatto un po' di errori, ne ho iniziato uno prima dove ho completamente sfuso la lettera, quindi ho ricominciato, però 62 con 96% di accuracy, vuol dire che sto raggiungendo una velocità quasi simile a quella che avevo prima, ancora non sento la stessa fluidità, secondo me fa anche molto la differenza la tastiera, cioè il fatto che questa sia la tastiera quella più piccola, senza la parte numerica per intenderci, mi aiuta ad avere una postura migliore, perché secondo me, invece nella postazione a casa, non riesco a scrivere così velocemente. Però, ecco, interessante, dai, devo dire, mi colpisce positivamente questa cosa, vediamo, ne faccio un altro, non ve lo faccio vedere, ma vi faccio vedere solo il risultato finale. Ok, un pochettino più lento, 59, ho fatto più errori, mi sono incartato un paio di volte. Interessante vedere anche le fluttuazioni, effettivamente, e come in realtà nei momenti più rapidi, io non abbia fatto più errori, cioè paradossalmente ho fatto errori nei momenti in cui stavo scrivendo più lentamente. Ok, così. Analisi di dati un po' a caso. Per quanto riguarda il resto, diciamo che dopo questa settimana di viaggi sto riprendendo un po' le abitudini, anzi adesso andrò a fare un po' di esercizi, domani, incrociando le dita che il quarto ci sia, dovrei andare a fare una bella partita di paddle, vediamo come va anche quella. Devo sicuramente recuperare un po' il fiato, anche se non so qual è la vostra impressione, ma il paddle mi stanca immensamente meno del tennis, cioè per allenare il fiato del tennis mi sembra molto molto migliore, anche perché io poi di solito ho giocato tennis singolo e quindi chiaramente devi coprire quasi il doppio del campo. E per quanto riguarda il resto, invece tutto abbastanza nella media, per quanto riguarda la parte di skin care, per quanto riguarda la parte di scacchi, ogni tanto faccio qualche puzzle. E quello che forse sto falendo un po' è documentare questo processo di fare tutti i giorni queste cose, per poi raccoglierle in un video in inglese, tema di cui vi ho parlato nello scorso vlog, quindi andatela a vedere, però ho la speranza di poter metterci delle toppe dopo, anche grazie a questi video che sto facendo. Quindi vediamo, forse mi sto solo dando delle giustificazioni insensate per essere un pochettino più pigro, però spero di no. Sabato, momento della verità per la settimana, vediamo un po' cosa ho fatto, se mi sono comportato bene oppure no, come procede la scrittura, come procede tutto il resto. Faccio il recap oggi, perché domani sarà una giornata abbastanza intensa, anche perché dovrei tornare a scalare, che era anche uno degli obiettivi che sono ancora lì nel backlog del Tommaso a 30 anni. Mi sembra l'obiettivo fosse quello di completare una scalata 6 a più, può essere, già mi sto dimenticando, comunque vediamo, svariati mesi che non lo faccio, quindi poi vi aggiornerò magari anche su quello nel prossimo vlog. In generale, settimana abbastanza intensa come al solito, però sto cercando di smettere di ripetermi troppo queste cose, perché a volte diventano profezie ad avveranti. Sono settimane piene di cose da fare, di novità, di cose belle, e noi ci auto cominceremo di questo, e andiamo a fare anche il test della scrittura per vedere se effettivamente sto raggiungendo un po' i piccoli milestone che mi ero settato per due settimane dall'inizio di questo cambiamento, e cercare di capire se riusciremo finalmente ad arrivare a una velocità paragonabile a quella precedente con l'altro metodo. Questo test è andato particolarmente male, anche comparato agli altri, non so che è successo, forse è da un po' che non scrivo qui, ma ero partito bene, poi dopo ho cominciato a fare errori, ho cominciato a premere le lettere sbagliate, e rifaccio un altro, sto rosicandolo e ne faccio una nuova. Ok, un pochettino meglio, forse un po' più concentrato, un po' più caldo, ora sono curioso di vedere se effettivamente continuando a scrivere e riabituandomi il punteggio migliore, vi faccio vedere il risultato del terzo test di fila. Ok, no in realtà mi sembra di essere rimasto abbastanza simile, quindi diciamo che forse il primo esercizio era un po' troppo freddo, adesso 58, forse mi sarei aspettato un pochettino di più, però mi rendo anche conto che mi sono allenato relativamente poco in settimana. Cerco sempre di tenere un po' l'impostazione di scruttura corretta negli ultimi giorni, però special lavoro, a volte uno deve essere super rapido, e quindi non seguo scolasticamente tutti quanti i dettami rispetto a dove mettere ogni dito, su quale lettera, soprattutto il mignolo viene sempre un po' difficile da usare, ma fa parte del percorso di apprendimento. Eccoci qui invece con il riassunto della settimana, con tutte le cose più o meno che sono riuscita a fare giornalmente. Ho dovuto fare un po' di backlog, perché due giorni non ho riempito questo grafico, spero di averlo fatto in maniera più o meno corretta. Day planning non mi ricordo quando l'ho fatto, comunque l'ho fatto poco, quindi l'ho lasciato antique, è qualcosa che devo assolutamente riprendere, perché effettivamente mi ha aiutato un po' nei giorni in cui l'ho fatto. Come vedete, ho giocato un po' a scacchi negli ultimi giorni, io qui sto contando quando faccio i puzzle, in realtà non sto giocando, sto facendo solo puzzle praticamente, è qualcosa che prenderò un po' più seriamente, magari più in là. La lettura magari riesco a farla, su base abbastanza ricorrente, però non quanto vorrei, quindi questo è un check che però mi lascia un po' insoddisfatto. Intanto lo faccio, cominciamo, sappiamo che la parte è più importante, però a volte mi rendo conto che magari si tratta di sentire un autolibro per un quarto d'ora, cioè non è abbastanza, non è il tipo di lettura che voglio, quindi sicuramente ci devo lavorare. La scrittura, come vi dicevo più o meno tutti i giorni, anche durante l'orario lavorativo, cerco di esercitarmi, ma non è sempre così facile. Esercizio, inizio settimana un po' malino, ma adesso mi sto riprendendo, anzi anche dopo questo video andrò a fare un po' di esercizi, luce, la mattina lo sappiamo, invece per quanto riguarda la cura della pelle, devo dire che un pochettino sto facendo, in qualche modo questa abitudine mi sta rimanendo, sia con sapone apposito per la faccia, insomma, le cose basiche, ma anche l'idratante, insomma, cose che non pensavo avrei mai utilizzato, sto facendo la differenza sulla mia pelle, non lo so, non credo, poi, specie con questo caldo, il caldo che c'è dentro questo ufficio, e il sudore immagino che adesso ci sarà veramente un effetto di riflesso incredibile, però, uno lo fa fidandosi dei dermatologi o sperando che solo il fatto di buttare una quantità di soldi esagerata su questi prodotti aiuti la tua pelle a sviluppare delle cose benefiche. Per quanto riguarda YouTube, riflessioni meta su questo vlog, allora, l'annuncio di ritorno del vlog, devo dire, come video è andato abbastanza bene, mi dispiace che un video così sia andato meglio dei video di Startup Appline, ma la cosa che noto è che quei video lì, dei video in cui facciamo 45 minuti di deep dive con founders su la loro azienda, ricevono dei commenti incredibili, veramente vi ringrazio tantissimo, e anche varie persone mi hanno scritto in privato parlandomi di quei video, quindi so che c'è interesse, il pubblico è di nicchia, più piccolo lo so, ed è il motivo per cui eventualmente vorrei anche cominciare a fare quei contenuti lì in inglese, però dall'altra parte mi fa piacere che comunque delle persone siano andate a vedere invece il video sul vlog, adesso dovrei pubblicare il nuovo video, infatti un'altra cosa che faccio adesso appena finirò è schedulare video per la settimana e proprio nella settimana che viene, quindi la settimana del 22, dovrebbero uscire nuovi video editoriali, chiamiamoli così, non vlog, non interviste, ma video fatte apposta che ho registrato qualche mese fa, vediamo se vi piacciono, secondo me sono video carini, e settimana prossima che sarà settimana di viaggio però troverò un modo per incastrare il vlog questa volta, lo dico qui così da sentirmi più in colpa nel caso in cui non dovessi riuscirci, sappiamo che è un metodo assolutamente salutare per mettersi gli obiettivi e io come al solito vi ringrazio per avermi seguito fin qui e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!